Altro tassello per solidificare il rapporto tra Ryanair e la città di Treviso. Un incontro online tra il sindaco Conte e i responsabili marketing della compagnia aerea per mettere a punto un programma di promozione turistica del territorio a poche settimane dall'ufficializzazione della nuova base della compagnia aerea all'aeroporto Canova di Treviso. Abbiamo rafforzato questo rapporto tra Ryanair e il comune di Treviso che vede nel comune di Treviso una base Ryanair che quindi sarà pronta ad ospitare il personale di Ryanair. E se la base Alcanova proietterà Treviso in una dimensione internazionale grazie ai 18 nuovi voli e a destinazioni particolarmente accattivanti, dal 2021 ci si aspetta il rilancio. Abbiamo gettato le basi per quello che sarà un rilancio turistico importante della nostra città, del nostro territorio con un coinvolgimento di tutti i territori comuni della provincia quindi dalle zone a sud fino ad arrivare alle colline del Prosecco quindi tutta la zona del patrimonio UNESCO.